Leggero infortunio all'ex Udinese Allegri per effettuare ancora un cambio. Giovinco al volo! 4-0 firmato da Sebastian Giovinco. Forse una deviazione in mischia. Fatto sta che al settimo della ripresa è arrivato il poker bianconero. Ecco qua la conclusione con il destro di Giovinco. Spizza il pallone Camarà, forse disturbando il portiere Hassan Sunni.